Il Natale Piacentino 2019 non resterà a secco di eventi. L'agenzia Mood si è infatti aggiudicata all'incarico per l'organizzazione degli appuntamenti che animeranno le festività. L'agenzia di comunicazione e marketing della piacentina Valeria Benaglia ha ottenuto ieri l'affidamento dal comune dopo l'esito negativo del bando scaduto il 5 novembre scorso senza la presentazione di alcuna offerta. Potrà contare su un contributo di 50 mila euro di cui fanno parte 13.600 stanziati dalla Camera di Commercio. In caso di gare deserte è ammesso un affidamento diretto con procedura negoziata senza più dover ricorrere a modalità evidenza pubblica a condizione che non cambino i contenuti del servizio richiesto. È la strada battuta dal comune anche per accelerare i tempi visto l'approssimarsi delle feste. L'incarico riguarda l'organizzazione di iniziative dal 30 novembre al 6 gennaio inclusi in mercatino in piazza Cavalli con il villaggio di Babbo Natale feste di Capodanno e della Befana. La mancanza di offerte al bando originario aveva fatto discutere alla luce di una locandina che era circolata già con il titolo degli eventi. Il PD aveva sollevato il caso puntando anche il dito sul grave ritardo con cui per il secondo anno consecutivo l'amministrazione si era trovata ad affrontare la questione natale.